Sicuramente frizzante, dico anche allegro perché il bicchiere di Lambrusco rappresenta anche un elemento di allegria, non dobbiamo dimenticarlo, quando si dice la bollicina, la bollicina rossa si stappa, è già un elemento di convivialità, quindi ci auguriamo un 18 spumeggiante e soprattutto una lode alle fatiche di tanti produttori che in questi anni hanno fatto veramente degli sforzi notevoli per offrire un prodotto sempre più moderno, non ancora dicci, sempre legato alla tradizione.